Eliminare ogni grande opera inutile come Tav in Val di Susa, adesso si stanno rendendo conto tutti che è una cosa inutile. Anche i sottosegretari dei trasporti cominciano a dire che è inutile, come la Corte dei Conti francese a dire che non ci sono i soldi, come le nostre battaglie che ci hanno preso per pazzi. E poi l'Expo, un altro sogno, nessuno sa cos'è, nessuno sa cosa succederà a Rò. I milanesi non vanno mai a Rò, figurati se uno di Singapore va a Rò. Sarà di nuovo la speculazione edilizia, sarà di nuovo precariato e sarà di nuovo debito pubblico. Lo sappiamo già in anticipo.